Siamo con Simone Gizzi, fantasista della Miternina e Antonello Scicchetti, ex calciatore dell'Aquila Calcio. Allora ragazzi, com'è andata questa serata? Iniziamo da Gizzi. La serata è andata benissimo, ci siamo divertiti tanto, è servito anche per uno scopo serio, vero. Ringrazio Mauro per l'invito e ringrazio tutta la gente che ha partecipato a questa manifestazione. Antonello Scicchetti, ex calciatore dell'Aquila Calcio, già ha calcato questo campo. Che emozione si prova a tornare a giocare al fattore? L'emozione è sempre la stessa, comunque giocare in questo stadio è bellissimo. Oggi era particolarmente bello visto che era anche un po' scivoloso, è stata comunque una bella partita. C'era gente anche se il tempo non permetteva, quindi comunque è stata una partita benefica, è riuscita alla grande. Adesso vorrei dire un qualcosa a questi due giovani atleti, li ringrazio pubblicamente, però ricordate una cosa, Vinza e Candela, campione del mondo, campione europeo, campione d'Italia, ci stava a fare i bozzi. Grazie. Grazie.